Ciao. Ciao. Come stai? Bene. E come hai passato questi 21 giorni? All'inizio male. Poi? Poi piano piano si è un po' cominciato ad aprirmi, no? Sì, come era giusto che fosse, no? Fin dall'inizio. Si è stata una settimana che da quello che avevo capito non ti sei relazionato quasi per nulla, senza un motivo, perché no? È giusto mettersi alla prova? No, il motivo era che, tu lo sai, no? A parte la prima volta che riusciamo a parlare, la prima volta che riusciamo a parlare, no? No, abbiamo parlato, abbiamo poco dialogo in generale, ma abbiamo parlato. In generale sì, di alcuni argomenti ancora no. A volte li abbiamo messi un po' da parte. Il fatto di essere padre è messo un po' da parte? No, non è che io ho messo da parte il fatto che tu sia padre. Ho sempre cercato, prima di conoscere te e poi tutto il resto della tua vita. No, non è che io ho messo un po' da parte.